Il progetto di Paganese ha toccato anche questa domanda, il tuo presente con la Paganese, c'è la mia presenza, oggi mi ha mandato il gruppo. Sì, innanzitutto sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo con la Paganese, è una seconda famiglia per me, sono 4 anni che sono qua da quando ero bambino, volevo ringraziare soprattutto il direttore Raiola che mi è stato sempre vicino da quando sono arrivato, e il presidente che hanno sempre creduto a me. Quindi sono veramente orgoglioso di essere diventato capitano e di aver raggiunto 100% su questa maglia. Siamo soddisfatti per come abbiamo affrontato la gara, siamo stati veramente bravi, è mancato il gol, sì, il gruppo di destra sono arrivato per un pelo, e volevo fare i complimenti pubblici a Gigi Silvestri che oggi si è ripreso alla grande dopo il zonosbarione di Francavilla, che stava molto giù e sono contento per questa partita che ha fatto. Che ci dobbiamo aspettare a Gigi Silvestri? No, veramente io non so niente, penso alla Paganese, penso solo a questa partita, da domani non lo so, ci saranno le valutazioni, ma penso alla Paganese di restare qui. Di queste 100 il momento più bello qual è stato? Allora, tutte le partite dove abbiamo raggiunto la salvezza e che sono state sentite un brivido dentro, il magone, perché per due anni abbiamo raggiunto l'ultima partita sempre con questa tensione e tutti i gol che ho fatto sono stati speciali per me in questa maglia. E' stato fatto molti di più? Molti di più, non tocchiamo questo argomento. Ciccio, tu sei stato sempre qui? Ciccio, c'è stato un momento, questa che vanno a Gigi Silvestri, non sei riuscita a decidere, non sei riuscita a decidere, ma come ne sei riuscita a decidere? No, ho capito che c'è un periodo della mia stagione, soprattutto a giugno d'andata, due o tre partite che calo fisicamente e non devo, cioè quando vedo che ho questi momenti devo giocare il più semplice possibile, fare le cose più facili possibile, non intestarmi sui giocare difficili, quando non sto in forma le gambe non vanno. E questo è stato il problema, questo ho capito, che quando non sono in forma non devo strafare. Una fascia di capitano ha dato anche tante responsabilità? Sì, sì, all'inizio sono molte responsabilità, però sono contento e molto orgoglioso di indossarla. Oggi è partita per te, a parte per spesa, quindi grande identità, sicuro che è mancato da l'otto per il soffio, per la conclusione da Gigi, la terza finale, addirittura si ha conquistato diversi fatti importanti per poterci risultati per fare la squadra. Quella, l'opinione, che voto hai da lì? No, un voto, non so, un sei e mezzo. Un voto lì da il dottor Solletti. Vediamo il pagellone oggi. Andiamo il pagellone. No, comunque sono molto contento della mia gara, soprattutto quella della squadra, perché abbiamo tenuto il campo benissimo. Abbiamo avuto, come diceva il mister, appunto quei dieci minuti dopo che abbiamo fatto l'uno a uno. Poi spiegabilmente, invece di andare avanti per cercare il vantaggio, siamo andati, abbiamo sofferto un po'. Però per il resto è una partita perfetta.